Benvenuti al Murano alla Veneria M2. Buongiorno e benvenuti al Murano alla Veneria M2. Buongiorno a tutti i miei Murano in M2-1. Il maestro Mario accorre la dimostrazione delle due tecniche principali per la lavorazione del vetro. La prima la pratica è la tecnica soffiata, ora il maestro mi fa la vene in un vasetto. Il forno ha una temperatura di 1200 gradi. All'interno c'è un recipiente con le tre materie principali, sangue di silizio, potassio e sodio. Da un voto e di fombita queste materie ci danno il vetro trasparente. We see now the whole workshop of the two most important techniques for work of class. The first one is the oldest and it's called the blowing technique. The master will show you now the middle days. In the oven we have a temperature of 1200 degrees and there is a recipe that's inside and with the three principal materials, silica set, potassio and sodio. After eight hours in the oven, these materials don't give us the chance that it does. We see now the two techniques that are important for the work of the video. The first and the most important thing is called the technique soffiata. Il maestro hace ahora un florero. Il horno tiene una temperatura di 1200 gradi. Adentro a un recipiente con le tre materie principali. Arena di silizio, potassio e sodio. Después de ocho horas del horno, estas materie no están en vidrio trasparente. On va guardar dos techniques plus importantes por el trabajo duro. La primera presencia de la technique soffiata. Notre maestro va a refuer un petit vaso. A l'interno de ful, on atem que la torta un lindo sonde de gré. Il y a un corse, a de que no a di a correder. Sable de silizio, potassio e sodio. A preguido la fonte, on obtiene la trasparente. L'interno de silizio, potassio, 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 potassio. Per fare i colori semplici oscidi e minerali, lavoriamo con 15.000 sfumature di colori, compresi oro 24 parati e aggetto. Para hacer los colores utilizamos oxido de minerales, trabajamos con 15.000 colores y también con oro 24 parati y compacta. Para hacer los colores utilizamos oxido de minerales, trabajamos con 15.000 colores y compresi oro 24 parati y aggetto. Para hacer los colores utilizamos oxido de minerales, trabajamos con 15.000 colores, compresi oro 24 parati y aggetto. Para hacer los colores y aggettanned Para hacer los colores, trabajamos con 15.000 colores de silencio. Para hacer los colores. il tempo dovuto all'incontro con la temperatura ambiente. Per evitare questo shock termico, i pezzi non finiti nei forni a tendera, dove si raffreddano lentamente. A the end of the days, we'll have a temperature of 900 degrees, but it will break because of the terrain shock caused by the amici with low temperature. To avoid this terrain shock, we had to put the pieces in a different kind of oven, where the wheel put down their temperature slowly. At the end of the day, we'll have a temperature of 900 degrees, but it will break because of the shock termico caused by the encounter with the ambient temperature. To avoid this shock termico, we have to put the pieces and the shoulders a tempera, which will be inflated lentamente. In our case, we'll have a temperature of low temperature, but it will break because of the ambient temperature. and it will resume the temperature of the state. We'll have a temperature of 6 to 1u0. We'll have a temperature of 8 to 1,000 degrees for the heat. We'll panel the temperature of the ambient temperature. And we'll have to clean up the heat in the morning. It will not break because of the temperature of the air. Il maestro ha solo 10 secondi per aprire il vasetto. Il maestro tiene 10 secondi per aprire il vasetto. Il maestro tiene 10 secondi per aprire il vasetto. Non prometto da un massimo di secondi, muto nella contina delle basi. Un sele maestro ha 10 secondi su off-le di basso. Ed ecco qua, bravo maestro! Vediamo ora signori una seconda tecnica, che è la tecnica solida. Usiamo questa tecnica per fare le sculture e i basi più grandi. Ora maestro mettiamo in un cavallino. Per fare questo cavallino usa una quantità di vetro molto piccola. Non potrà così riscaldarlo e avrà solo 2 minuti per finirlo. Vediamo ora la seconda tecnica, che è il risultato tecnico. Usiamo la tecnica per fare le sculture e le basi più grandi. Il maestro vi mostrerà ora un po' più peggio. Ma se sta lavorando con una piccola quantità di vetro, non avrà solo 2 minuti, 2 minuti, perché non può lavorare di nuovo. Vediamo ora la seconda tecnica che si chiama tecnica solida. Utilizziamo questa tecnica per fare le sculture e le basi più grandi. Il maestro, alaura un cavallo, prendrà solo 2 minuti per farlo, perché trabaja con una quantità di vetro molto piccola e non può calentarlo altra vez. Un va a mantenere la tecnica, che è la tecnica solida. Un'utilizzo la tecnica per fare le sculture e le pesce più grandi. Nostro membro va a fare un petit cheval. Non ci sono scuole per questo mestiere. Solo ragazzi che vengono nelle fornaci e fanno pratica con i maestri per 15-20 anni. Solo i migliori poi diventano maestri. Gli altri rimangono assistenti. Un assistente, per esempio, ha bisogno dei 4-6 anni per imparare questa tecnica. Non ci sono scuole per fare le sculture e lavorano con i maestri per 15-20 anni. Solo i migliori diventano maestri. Il resto rimangono assistenti. Un assistente, per esempio, ha bisogno di 4-6 anni per imparare questa tecnica. Non ci sono scuole per questo tipo di lavoro. Solo i migliori che arrivano nelle fornaci e lavorano con i maestri per 15-20 anni. Solo i migliori si fanno i maestri al final, i migliori si fanno aiutanti. Un aiutante necessita di 4-6 anni per imparare questa tecnica. Ora parli come si è meglio, sono una persona che viene uscì di lavorare 20-20 metri perché si vengono. Sono un migliori diventano 8 metri, le altre restano sui soldi. Anche sui soldi ha bisogno di 3-4 e 6 anni per imparare questa tecnica. E' scuole per questa perufe. Pianche le cose, come si sono uffi, un tabate di Wittermeister per funzionare di Svazio Chiare. Noi di besti Wittermeister. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare 4-6 anni per imparare questa tecnica. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare in un'altra tecnica. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare in un'altra tecnica. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare in un'altra tecnica. costa di fare un'altra tecnica. Grazie. This is the end of our demonstration. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare in un'altra tecnica. Anche sui soldi ha bisogno di lavorare in un'altra tecnica.